Santo, un altro momento bello qui al Museo di Pitagora, l'inaugurazione della mostra di Leonardo da Vinci. Sì, una bella soddisfazione, abbiamo portato questo importante allestimento qui a Crotone, dopo Milano e Barcellona, Crotone è una tappa importante di questo percorso, un bel percorso tra il rivoluzionario e lo scientifico, è un percorso che soprattutto per i calabresi sarà un'occasione da non perdere. Dobbiamo dire che in Calabria è solo qui a Crotone, al Museo di Pitagora. Sì, questa è la prima assoluta della Calabria, una mostra di questo tipo non è mai stata fatta e siamo appunto contenti, soddisfatti di averla proposta al pubblico calabrese. In questa mostra c'è anche un video in 3D? Sì, diciamo è una mostra mista, ci sono come potete vedere dalle immagini la riproduzione delle macchine di Leonardo, quelle più significative, c'è la storia del rapimento della Gioconda e poi ci sono filmati, proiezioni e ci sono i visori per una visione immersiva della storia di Leonardo. La mostra di Leonardo da Vinci in 3D è una cosa importante perché racconta un po' tutta la storia e le opere. Sì, è una genesi che nasce dal cinquecentesimo anno delle celebrazioni, dalla scomparsa di Leonardo, è stata realizzata con il Comune di Milano e poi per raccontare tutta la vita e tutto il compendio di Leonardo da Vinci, lui come pittore, come ingegnere, come studioso delle varie arti umane. Questa mostra è stata realizzata con un comitato scientifico importante, la curatrice Marina Kevrisvili, con Quelchenstein come grande studioso e storico della vita di Leonardo e Stefano Corazzini come architetto e studioso delle opere e delle realizzazioni di Leonardo. Per la prima volta in Calabria questa mostra viene esposta? Sì, è stato un progetto realizzato con il Consorzio Jobel proprio per portare in tutta Italia, specialmente in Calabria e a Crotone che è una città molto sensibile per la cultura e per la crescita dei propri giovani. Quindi la mostra di Leonardo si rivolge proprio ai giovani, alle famiglie, dove abbiamo arricchito appunto i temi scientifici e culturali con delle animazioni che sono sicuramente divertenti e adatte a tutte le fasce di età. Ci sono la riproduzione di alcuni oggetti qui, questi riguardano sempre Leonardo da Vinci? Sì, diciamo Leonardo da Vinci è stato uno dei più grandi disegnatori ingegneri, ha disegnato tantissime macchine che poi hanno cambiato il corso dell'umanità. Molte di queste macchine non sono mai state realizzate ma lui ci ha lasciato i progetti tecnici, quindi quello che vediamo qui sono alcuni esempi di sviluppo diciamo fedelmente riprodotti dai disegni che Leonardo ha realizzato. Qui nella mostra abbiamo anche dei codici che diciamo sono in esposizione da cui si vedono appunto questi disegni come sono stati realizzati. Queste sono opere di Alessandro Tartaglione che ha fedelmente riprodotto i codici da Vinci.